5.000 abborracce per combattere l'eccessivo utilizzo dei contenitori di plastica. La GESESA, la società che gestisce il servizio idrico a Benevento e in diversi centri del Sannio, ha fornito a tutta la popolazione studentesca dell'Università del Sannio un'alternativa importante per aderire al Plastic Free, presso la sede DEM di Via delle Puglie la consegna. Un piccolo passo dal grande valore simbolico, ha spiegato il Rettore dell'Ateneo, Gerardo Canfora. E' anche un modo per richiamare l'attenzione dei nostri studenti sul problema della sostenibilità. L'Ateneo del Sannio è impegnato su questo tema in molte direzioni. Vi invito tutti a dare un'occhiata al nostro bilancio sociale integrato, dove, fra le altre cose, abbiamo intrapreso un percorso di rendicontazione e di sostenibilità. Abbiamo fatto una disamina attenta di quello che è il consumo di energia e stiamo studiando tutte le opportunità di risparmio che potremo mettere in campo. Gesa Esa, ha detto l'amministratore delegato del gruppo Salvatore Rubbo, ritiene che sia fondamentale che la propria azione sia svolta in modo sostenibile, senza recare mai danno al territorio. Un messaggio che stiamo lanciando anche alle giovani generazioni. Oggi qui all'Università questo messaggio deve avere ancora maggiore efficacia, perché qui è una fucina di competenze e solo attraverso le competenze si possono svolgere attività in modo sostenibile.